ciao ragazzi da paolo di quelli che telefonano oggi andiamo a vedere un nuovissimo terminale htc quale il desire 816 un phablet perché non è un semplice terminale ma è un phablet non è un telefono quindi da 5.5 pollici con una risoluzione non full hd ma andremo a vedere ora nel focus appunto come come risulta questa risoluzione una fotocamera posteriore da 13 milioni di megapixel mentre la frontale da 5 milioni di megapixel batteria da 2600 mAh ora andremo a commentare tutti i vari aspetti allora come caratteristiche appunto dobbiamo tener conto che è un phablet quindi anche in base al prezzo che è di 400 euro in italia e diciamo intorno ai 359 sul web per quello che ho dato un'occhiata da adesso prima di fare recensione e diciamo che appunto è comunque un oggetto che non va paragonato secondo me a un telefono ma va paragonato appunto a un oggetto a un phablet quindi a un telefono che comunque deve deve trovare anche il suo pubblico io ad esempio non adoro questa grandezza di telefoni perché secondo me è un po' scomodo considerando quindi che ne faccio un uso veramente intenso questa grandezza sarebbe scomoda da mettere in tasca e comunque da portare con sé andiamo a vedere un po' le caratteristiche le particolarità di questo telefono allora innanzitutto la cosa che dovete provare con mano è sicuramente questo questa plastica perché è vero che è plastica è vero che non è il solito metallo ht quindi materiale di pregio ma diciamo che sinceramente al tatto questo non ricorda nessun altro telefono appunto in policarbonato plastica che dir si voglia vediamo appunto l'aspetto di questo nuovo terminale allora il boom sound presente invece che la scocca con i puntini piccoli piccoli sulla ghiera in metallo ha questa io la chiamo finezza perché sinceramente mi piace molto anche di più dell'ottocento dell m8 o di m7 mi piace quest'idea di questi puntini a livello di design secondo me una caratteristica molto 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 di pregio abbiamo il tasto accensione qua e io vi faccio vedere che ecco io non avrei problemi nemmeno a accenderlo se fosse nel solito punto qua in alto o qua comunque qua sarebbe più scomodo comunque qua io mi sono sempre trovato molto bene e a questo punto lo troviamo invece che di solito trovarlo in questo punto dove sto premendo adesso nel punto nel lato opposto io lo trovo comodo in qualsiasi modo anche questo perché come vedete anche appena impugnato io posso premere in qualsiasi momento sotto il volume qua troviamo appunto la possibilità di inserire la sim la micro sd e qui ci sarebbe anche nel centro la possibilità di inserire la la seconda sim se all'estero infatti esiste questa versione con la possibilità di montare il dual sim allora sempre per vedere le dimensioni perché sicuramente dalla mia mano non vi rendete conto facciamo un confronto con un m7 che sicuramente è il terminale che conosce conosciamo tutti bene l m8 sinceramente non ha tutta questa differenza di rendezza o meglio si nota ma non come non certo come un m7 vedete qui diciamo che abbastanza notevole la cosa ok andiamo accenderlo quindi le caratteristiche sono dette tutte il prezzo pure io direi di fare un focus inizialmente sulla foto visto che ha una fotocamera di 13 milioni megapixel allora prendiamo il nostro personaggio della banda bassotti senza toccare nemmeno lo schermo facciamo un leggero focus ha già messo a fuoco quindi messo a fuoco veramente veloce riproviamo anche così per dire prendiamo un altro punto andiamo velocemente qui messo a fuoco direi immediata andiamo a vedere lo scatto beh sicuramente con questa condizione di luce che non è niente di particolare quindi diciamo una luce normale da stanza direi che insomma anche a livello di colori ricordo che la luminosità ovviamente è al massimo e appunto per questo andrei a vedere un'altra cosa e cioè con la paletta dei colori un confronto veloce anche se a questo punto dovremo ok vediamo un attimo le differenze ma diciamo che a brillantezza sinceramente anche i bianchi mi sembrano molto 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 interessanti non vedo particolari differenze né paragonato a m7 dobbiamo pensare che questo è un full hd e questo invece è a 720 io sinceramente anche guardando da vicino non trovo assolutamente diciamo che sulla carta vale molto meno un 720 rispetto a un 1080 ma dal vivo vi posso garantire che o sono i miei occhi però io sinceramente non ci vedo grandi grandi differenze anzi sinceramente in con questa grandezza proprio ok io andrei all'audio visto che ci sono le nuove buon sound conosciamo abbiamo sentito il sound delle delle m8 io proverei appunto su spotify ok ok prendiamo un pezzo di michael ok iniziamo da qui questo è il vecchio beats 816 ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E probabilmente la qualità di M7 rimane sempre molto profonda nel suono e tutto, comunque l'intensità audio è veramente un'altra cosa sia su M8 che appunto anche su 816. Quindi torno a dire che intanto questo fa parte della fascia dei phablet, è sicuramente un terminale che per 400€, a mio avviso anche per la velocità, sono andato a fare un po' anche prima il controllo se ci sono differenze, se i rallentamenti, visto che questo monta uno snapdragon, un processore leggermente inferiore anche a M7. Io sinceramente vi devo dire la verità, secondo me va veramente veloce, ma veloce veramente tanto. E quindi non trovo differenza, avendo provato altri terminali come l'OPPO Find 7 che è praticamente un altro phablet da 400€ che fa ottime foto, qualità e tutto. Però ecco, secondo me rimane che questa interfaccia sense dà qualcosa in più all'utente e trovo insomma in generale che HTC nei suoi prodotti dà sempre una garanzia in più. Detto questo poi è soggettiva la cosa e quindi si può anche preferire altro, ci mancherebbe altro. Io rimango con questa breve introduzione, poi più avanti faremo confronti con altri terminali della stessa fascia. Ciao ciao!